Il Tribunale di Taranto ha sospeso la serie tv a vetrana Qui non è Hollywood. La fiction non andrà in onda sulla piattaforma streaming Disney Plus il prossimo 25 ottobre. Un colpo di scena è proprio il caso di dirlo. Il ricorso d'urgenza ex articolo 700 presentato dal sindaco di Avetrana Antonio Iazzi con il suo pool difensivo formato dagli avvocati Fabio Saponaro, Stefano e Luca Bardaro è stato accolto dal giudice della sezione civile Antonio Attanasio. L'udienza della comparizione delle parti è fissata al 5 novembre. C'è questo provvedimento d'urgenza che dà ragione ai legali del comune che hanno interpretato le stanze della comunità attraverso il suo sindaco. Vediamo poi il giorno 5 che cosa deciderà nel merito il giudice. Quindi ancora il percorso è lungo. La miniserie firmata dal regista pugliese Pippo Mezzapesa ripercorre le vicende dell'omicidio di Sarascazzi avvenuto ad Avetrana nell'agosto del 2010. Ed è proprio per via del nome della città che compare nel titolo della serie che il sindaco si è mosso con i suoi legali per chiederne una rettifica oltre alla sospensione immediata. Perché risulta indispensabile visionarla in anteprima. Aveva spiegato il primo cittadino nella nota di comunicazione del ricorso temendo che l'associazione del nome della cittadina all'adattamento cinematografico suscite una portata diffamatoria. Eppure le critiche non sono mancate sul profilo social del primo cittadino. Alcuni hanno lamentato i costi di questa battaglia legale troppo dispendiosi per le casse comunali. Per carità poi sono delle scelte politiche. Io inviterò appena a tempo questi signori ad andare sul laboratorio e a vedere qual è la somma che il comune sta spendendo per questo procedimento. Qualcun altro invece chiede di trovare dei modi per commemorare la vittima, Sara, una concittadina, e di non dimenticarla.